Conferme e perché no miglioramenti. È ciò che si aspetta Claudio De Luca dal suo Biceglie che domani sera sfiderà il Brindisi Grandi Firme di Marcello Chiricalo nella gara secca del primo turno di Coppa Italia di Serie D. Il match si giocherà sul Prato del Ventura con fischio d'inizio previsto alle ore 20. Il Brindisi sulla carta e sulle dichiarazioni che hanno fatto hanno certamente detto di essere una grande squadra e di voler lottare per primeggiare in questo campionato e anche nella Coppa. L'esordio nella nuova stagione del Biceglie è stato decisamente confortante. La vittoria per 5-2 contro il Gallipoli nel turno preliminare di Coppa Italia ha messo in evidenza una squadra indiscreta condizione ed un Pierino Zotti già in forma campionato che scatterà il 7 settembre. I Nerazzurro Stellati debutteranno al Ventura contro il Potenza. Prima però c'è il Brindisi, un test attendibile contro un avversario considerato dalle addette ai lavori il favorito numero uno per il salto in Lega Pro. Contro i Messabici intanto tornerà a disposizione il portiere Paolo Vicino, ancora out il terzino destro Vincenzo Lacriola, fermo ai box per una squalifica relativa alla passata stagione. Comincia sempre domani l'avventura del Monopoli di Francesco Passiatore, ammesso direttamente al primo turno di Coppa Italia di categoria. I Biancoverdi affronteranno al Veneziani, inizio previsto alle 18, il San Severo, i Foggiani al turno preliminare. Hanno sorpreso la Fidelisandria in trasferta ed espugnato il Degli Olivi con il punteggio di 3-2. Decisiva nella circostanza la doppietta realizzata dal brasiliano Rafael Carminati.